Allora che aspettiamo a saltare? Ah, così si parla. Sbrighiamoci. Ok, forza. Johnny, stai per saltare per la prima volta da un aereo. Che impressione ti fatti? Si spregge il culo, vero? Oddio! Oddio, che bello! Non c'è niente di più bello al mondo! Sto facendo lavoro con un angelo! Codo! Sto facendo lavoro con un'angelo, non c'è niente di più, non c'è niente di più, non c'è niente di più. Non c'è niente di più, non c'è niente di più. Coraggio, Johnny, vieni da noi! Forza, Johnny! Dai, che te lo fai! Coraggio! Usa la braccia! Vola! Fatti sotto! Vai forte! Ce l'hai fatta, è bello! Toccomi! Andiamo giù come stelle! Allora, che te lo dici, Johnny? È stupendo! È super stupendo! Dio, che bello! La terra ci viene incontro! Oh, oh, oh! Dio, che bello! Grazie a tutti